Inaugurato a Napoli in pieno centro storico, uno studio medico gratuito per le persone più bisognose. Nella chiesa di San Tommaso a Capuana, in via dei Tribunali 216, una struttura in disuso da circa 30 anni è stata recuperata con il lavoro soprattutto di volontari. Qui una trentina di professionisti e specialisti in varie branche della medicina si metteranno a disposizione gratuitamente per visite e consulenze in uno studio dotato di apparecchiature per il primo soccorso, compreso un defibrillatore. L'iniziativa ad uso esclusivo dei poveri della città avviene con le donazioni dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione e della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. Una struttura benefica, insomma, la cui presenza in città però va anche a sottolineare le carenze dell'assistenza sanitaria pubblica. Il professore Adriano Giannola, presidente della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli. L'importante è che questo centro, questo ambulatorio, chiamiamolo così, possa rappresentare una risposta immediata e magari definitiva ad alcune esigenze e contemporaneamente un link con strutture che possono offrire analisi e così via in qualche modo al di là delle burocrazie del sistema sanitario nazionale per rispondere a delle esigenze effettivamente rilevanti. A gestire lo studio sarà l'associazione Sistoriario Sforza. Il presidente Modestino Caso dichiara. La speranza è quella di dare delle risposte agli ultimi, delle risposte a persone che purtroppo non possono permettersi di spendere delle cifre per poter recarsi presso studi medici per risolvere i problemi di salute.